io l'ho definita da parte mia una fuga d'amore perché è la prima volta che poi in effetti mi immergo in una dimensione che è quasi olimpica giustamente è un olimpiadi continentale diciamo così che ha un significato ancora più profondo in questa fase storica geopolitica così delicata nella quale si riafferma il valore i valori dell'europa attraverso lo sport in una terra così simbolica come la polonia così vicina all'ucraina con un ucraina così presente nella polonia a krakow in particolare con centinaia di migliaia di persone milioni che sono stati ospitati qui tante bandiere ucraine quindi anche l'emozione non soltanto di ciò che succede sui campi di gara campi di gioco ma anche di ciò che vive questa comunità con tutto quello che ne consegue per appunto la vicinanza fisica che anche una vicinanza morale emotiva dopodiché la bellezza dei giochi con un elemento che ho notato ci sono pochi bambini sugli spalti ecco questo forse tra le tante cose ben organizzate dalla associazione dei comitati olimpici europei molto ben organizzate dappertutto e anche ben prodotte dal punto di vista televisivo distribuite anche grazie al canale del coni però è mancata manca un po la presenza delle giovanissime generazioni perché io credo che eventi come questi abbiano un valore chiaramente sportivo tanto più in previsione dei giochi olimpici del prossimo anno a parigi ma hanno un valore anche evocativo promozionale per lo sport e quello passa attraverso la presenza il convulgimento emotivo delle bambini delle bambine